Serena Bortone da giorni in tv col braccio fasciato, o la sindrome di Decker-Van, da giorni Serena Bortone si presenta in tv con il braccio destro fasciato. La giornalista ha rivelato di essersi dovuta operare perché soffre della malattia. La giornalista ha rivelato di essersi dovuta operare perché soffre della malattia. La giornalista ha rivelato di essersi dovuta operare perché soffre della malattia. La giornalista ha rivelato di essersi dovuta operare perché soffre della malattia. Esistenti al polso e, per l'appunto, alla base del pollice, che peggiora con il movimento, talvolta compare anche un gonfiore dell'arto. Una delle cause che provoca l'infiammazione è di solito un uso ripetitivo del polso del polso, nello specifico una torsione Per lenire il dolore, in condizioni piuttosto gravi, si effettuano delle infiltrazioni, a distanza anche ravvicinata le una dalle altre, in modo da poter consentire un movimento più agevole del polso e, soprattutto, smorzare la tensione dei tendini infiammati Grazie